Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, abbiamo sofferto, ma è qua secondo me che si vedono anche le grandi squadre, non contro la Samp, vince 5-1, tutto facile, oggi si è visto una Lazio che ha faticato, forse l'abbiamo anche preparata in questo modo, perché la Lazio è una squadra che sa chiudersi e ripartire, il suo gioco è quello, poi anche giocatori di qualità, però la sua grande forza sono le ripartenze con Corea, con Immobile, con Luis Alberto, eccetera, con Lazzari, però la Roma non ce l'ha permesso. Io parto col dire, grandi ragazzi, grande cuore, ma grandissima Roma, cioè all'andata avete fatto, dopo 19 partite, la Roma, Fonseca, ha fatto un lavoro straordinario, all'andata noi abbiamo dominato, ma la Roma, a quanto quel pareggio, noi prendiamo 4 pali, ma in generale la Roma non era ancora una squadra, oggi è una squadra, ed è una squadra che agna dietro, ma come la Lazio e Roma, si potevano giocare tranquillamente veramente lo scudetto, cioè negli anni che la Juve di Conte giocava con Matri, quella gente lì, Roma e Lazio, secondo me se la potevano giocare tranquillamente, anzi, forse avevano anche qualcosina in più. Quindi complimenti alla città di Roma in generale, che io non sono romano, si sente e si vede, sono ligure, però il derby più bello d'Italia, sotto tutti i punti di vista, da, secondo me, qualche anno a questa parte, anche dal punto di vista tecnico, Lazio e Roma, sono due grandissime squadre. Ma andiamo con l'analisi, allora, è qua, secondo me, che si vedono poi i veri laziali, però in questo momento criticare la squadra non avrebbe assolutamente senso, perché chi conosce il calcio sa che è da queste partite, secondo me, che si può arrivare secondi, perché in questo momento il nostro obiettivo è il secondo posto. Lo Scudetto è utopia, ma non è un nostro obiettivo, è una cosa in più, io non mi nascondo, io ci credo fino all'ultimo, però la Juve è nettamente più forte, però l'Inter no, quindi dobbiamo, il nostro obiettivo è il secondo posto. E oggi, io, nel video di venerdì andato a vedere, dissi, pareggio con gol, era scritto, era scritto. Io sapevo che, chi diceva che, sentiva anche al Bargine che diceva, io pensavo che la Lazio se li mangiasse, ma tifosi neutrali e la Roma, no, no, perché al derby si azzera tutto, Fonseca l'ha preparata benissimo, con la vinta, secondo me, sugli esterni, con quel pressing alto, perché ragazzi, io, quando a volte ho, non criticato, però ho messo un po' in dubbio le prestazioni di Lazio e ho detto, è un giocatore che manca un po' dal punto di vista tecnico quando spinge, anche se è un giocatore di quantità e tutto, è Spinazzola, è Spinazzola l'esterno che vorrei io. Cioè, avete visto Spinazzola? Che tecnica! Cioè, metteva qui cross, quel cross per Verretucci, è Spinazzola, io un giocatore che adoro, peccato un po' per i problemi fisici, ma veramente la Roma non ci ha fatto respirare, la Lazio di solito, mi ricordo la partita con la Savio, ma tante partite, costruisce da dietro, invece la Roma non ci ha fatto respirare, noi eravamo costretti a lanciare lungo e purtroppo non abbiamo i giocatori per il lancio lungo, a parte Milinkovic o Caicedo, che oggi però non c'era, la Lazio non ha i giocatori all'azzeco che lanci lungo, ti stoppano la palla, non ha quei giocatori, quindi fa un po' fatica, Immobile non siamo riusciti mai a innescarlo, anche se Immobile comunque si è sbattuto e alla fine due o tre occasioni l'ha creata. E Roma che appunto il primo quarto d'ora ci ha messo lì, è passato in vantaggio con un gol, ragazzi, che Stracoscia è un regalo, perché Stracoscia esce, giustamente. Poi bisogna vedere un attimo perché la comunicazione, perché c'era una Cerbi, Rado, quindi c'è stato un po' secondo me mancato comunicazione, però si vede proprio che Stracoscia non è convinto, esce e poi rimane lì. E poi Zecco ormai è troppo tardi, ha un grande stacco, una grande fisicità e lo sovrasta. E poi io leggo, durante le partite io il cellulare non lo guardo, però mi arrivano le notifiche, nella barra delle notifiche, è Stracoscia, è una pipa, ragazzi, ma avete visto Paul Lopez? Il ruolo del portiere è un ruolo difficile. Io mi incazzo con sti laziali che mi criticano Stracoscia, ma ingiustamente, cioè si critica l'errore, è un errore, lo sto analizzando io stesso, però non mi potete dire è una pippa, perché se noi guardiamo il campionato di Stracoscia, solo il campionato, e sto parlando, lasciate perdere l'Europa League, è il primo errore secondo me, è il primo errore grave che fa. Avete visto Paul Lopez? Perché Paul Lopez è scarso solo perché ha fatto quell'errore lì che è 20 volte più grave, perché lì è proprio un regalo, una papera. Quindi io mi incazzo a vedere queste cose, sosteniamoli i giocatori, sosteniamoli, perché in questo momento questa squadra è fantastica. Ci sta regalando un sogno, siamo lì con il recupero, noi siamo a più uno sull'Inter. Poi non abbiamo saputo reagire dopo il gol, perché la Roma ci ha chiuso lì, però è nato il gol da caparbietà nostra, di Acerbi, che ha fatto una partita straordinaria, perché Zeko è stato il migliore, secondo me, della Roma, insieme a Underi, insieme comunque a Spinazzola. Però Acerbi ha fatto delle chiusure inimmaginabili, è bravo anche nel gol, anche se l'errore è sicuramente di Stracoscia, anche un po' forte di Smalling, no scusate di Stracoscia, di Paul Lopez, scusate, e anche un po' di Smalling, Smalling grandissimo difensore, cioè pazzesco su Chris Smalling. Io lo seguivo da giovane nel Manchester, era una grande promessa. Poi si è un po' perso, però potenzialmente è un difensore fortissimo, perché è forte fisicamente e forte tecnicamente. Quindi, brava la Lazio, in un momento di difficoltà a uscire, perché io dicevo, a uscire appunto con questo gol, 1-1, io dicevo, dopo il gol della Roma, ho detto, speriamo finisca presto questo primo tempo, perché è più facile che ci siano loro il 2-0 che noi l'1-1. Invece, abbiamo reagito, secondo tempo, però io l'ho visto subito, dopo un minuto ho visto subito la Roma a giocare meglio. Ho detto, io firmo, datemi dove devo firmare, firmo per il pareggio. Comunque, poi, qualche occasione, l'abbiamo anche avuto in contropiede alla Roma, fino a un certo sessantesimo, adesso non mi ricordo, l'occasione di Zecco su Assis di Vertu, non ha creato grandi occasioni, ci difendevamo bene. Poi, due grandi occasioni di Zecco, due grandi parate di Stracoscia, soprattutto la seconda con il piede, anche se Stracoscia, anche dopo, ha fatto un errore sull'uscita, ma lì è perché mentalmente era insicuro. Ok, lì, purtroppo, la difficoltà di un giocatore è umano e può capitare. Per il resto, ragazzi, noi non riuscimmo veramente a ripartire. Avevamo giocatori, io, Correa, nonostante quell'azione bellissima che ha fatto, che tra un po' va in porta, però non l'ho visto, al meglio. Tornassi indietro, mi mettessi nei panni di Inzaghi, io sarei partito con Caicedo di immobile, proprio perché Caicedo dava più fisicità. Cioè, se tu, Inzaghi, hai preparato la partita per stare dietro e ripartire, secondo me serveva più un Caicedo che ti teneva il pallone, faceva un po' da bova, e Correa l'aveva rimesso, magari, a partita in corso, per spaccarla la partita. Invece ha fatto il contrario, però, alla fine, anche Caicedo, quando è entrato un po' alla partita, l'ha cambiata leggermente. Però si è visto proprio che serveva un giocatore come Caicedo, che gli davi palla, lui te la teneva, ti prendeva il fallo e innescava Ciro Immobile. Non è Immobile che deve fare quel lavoro lì di venire a prendere palla e servire Correa, capito? Deve essere Correa o, in quel caso lì, Caicedo, che è più adatto in quelle partite lì. Però, veramente, si vedeva che la Roma aveva anche più energia, più dinamismo, più forza nelle gambe, nella testa, non riusciva veramente a ripartire, però io dico che la Lazio dell'anno scorso, la Lazio di due anni fa, la Lazio di tre anni fa, la perdeva 3-1 questa partita, non 2-1, 3-1. Quindi io, la prestazione poi la valutiamo magari anche domani con un video più dettagliato, con anche le pagelle. Però, in questo momento, dico che questo è un punto guadagnato, quindi complimenti alla Roma, ma complimenti anche a noi, grande cuore, perché non si può vincere sempre 5-1, ma in queste partite che si vedono le grandi squadre. Signori, like al video, condividetelo, bella!